Ciao a tutti ragazzi e ragazzi di Youtube, siccome abbiamo dovuto formattare la sim prima di fare nel mentre che sto facendo il video, adesso ricominciamo da capo questo rossetto è di... io già pensavo fosse viola ma in telecamera si vede nero, non si sa perché fa parte della collezione dei migliori di rossetti di Urban Decay, Vice che sono tutti belli bellissimi colori e io ho un bel po' di campioncini quindi ne sto provando un po' a raffica così casuali per vedere quelli che mi piacciono di più, comunque l'argomento del video non è questo ma è la skin care routine solo vi... quindi iniziamo subito da due maschere, una è quella di Sephora ed è la Bubble Mask non riesco a dire max, mi viene max, bubble max, bubble max, invece no, è la Bubble Mask di Sephora ossigenante ed è quella maschera che stando a contatto con la pelle e con l'aria inizia a fare tutte bollicine quindi sembra poi che avete una gigantesca cosa di bolle e insomma adesso vi faccio vedere la sua mano allora questa è la scatolina, costa mi sembra 13 euro, sono 40 ml, sì mi sembrano 13 euro da Sephora ed è un flaconcino così che però dura un bel po' qui per esempio la durata, dove la leggiamo? la durata, non c'è scritto, ah sì la durata è di un anno quindi anche molto molto dura tanto adesso io me ne metto un po' sulla mano, proprio poco e vedete che ha questa forma gelosa non molto carina e adesso mettendola a contatto con la pelle inizierà a fare delle cose molto strane forse, adesso ancora così, senti, senti, dai dai, ecco vedete che sta già cambiando il suo aspetto in pratica questa maschera quello che promette è di illuminare di più il volto, di farlo diciamo di ripulirlo e effettivamente usandola costante, costante, costantemente, c'è, si nota un cambiamento di pelle e fa anche un effetto, un leggero, leggero pizzicorino sulla faccia che però è veramente, veramente troppo divertente quindi io la consiglio, anche se, vabbè, l'effetto non è, non ti cambia la faccia però diciamo che migliora un pochissimo però la pelle ed è troppo divertente farsela, è veramente, già è divertente vero? no, sì sì, che spazio che spazio tenerla su dai 2 ai 3 minuti perché effettivamente tenendola ancora di più inizia a dar fastidio tutte queste micro bolle che ti esplodono infatti e quindi questo è il primo prodotto promosso poi un'altra maschera, questa qui invece è di The Body Shop questa maschera qui l'abbiamo presa a Londra, tipo l'ultimo giorno che eravamo lì non sapevamo più che cosa fare, siamo entrate dentro The Body Shop perché ovviamente non c'è The Body Shop in Italia e tra mille, mille cose che c'erano, e c'erano veramente tantissime cose c'erano questa serie nuova di maschere ogni maschera aveva diciamo un suo effetto eccetera e noi abbiamo preso questa che è quella energizzante comunque nel frattempo la maschera di Sephora sta crescendo eccola e mi sta anche solletticando la mano ah ma comunque questa maschera qui l'abbiamo pagata mi sembra sulle 15 sterline 85 ml dà anch'essa una durata di 12 mesi ed è un barattolino carinissimo e tutta la confezione è fucsia e nera e ovviamente ognuno aveva dei colori diversi la nostra si chiama Amazonia Nakai Amazonia Nakai e qui c'è anche il sito di The Body Shop che però non possiamo comprare sul sito di The Body Shop adesso vi faccio vedere vedete qui davanti c'è il marchietto di The Body Shop e noi l'abbiamo vabbè ce n'è ancora un po' comunque ha un profumo molto forte ed ha questa consistenza qui un po' gelatinosa non è proprio anzi la vera consistenza è da marmellata proprio sembra veramente la marmellata nel frattempo questa è la maschera di Sephora e adesso prendo un po' di questa ed è questa qui vedete sembra la marmellata alla fragola ed ha dei microgranuli in modo tale che dopo che è stata in posa e stranamente alcune volte fa anche un po' di non lo so io certe volte me la sono sentita un po' come se scaldasse la pelle come se fosse troppo e invece certe volte non ho sentito niente comunque dopo averla tenuta in posa nel mentre che si toglie potete farvi anche uno scrub alla faccia e questa è molto molto buona e fa una pelle veramente veramente bella quindi queste sono state veramente due delle mie maschere preferitissime da fare vedete questa di Sephora che fa le microbolle e l'altra di The Body Shop è relativamente nuovo quindi l'ho preso tipo due settimane fa l'ho preso tipo due settimane fa però usavamo ancora le salviettine quindi l'abbiamo iniziato a usare tardi ed è il fito struccante adesso c'è una linea da OVS che si chiama fito e qualcosa tipo fito struccante fito maschera fitocrema e tutto e via dicendo ed è una linea bio che ha bene o male che ne so fito detergente ha detergente per il viso per il corpo maschere viso beh c'ha un po' di tutto diciamo 100% bio per esempio questo è il fito struccante occhi ginseng e fiordaliso 0% parabeni paraffine, oli minerali eccetera eccetera sono 150 ml mi sembra di averlo pagato sui 6 euro 7 euro non tantissimo l'unica ecco vedete anche dietro ci sono le varie certificazioni per che non ci sono diciamo non è testato sugli animali eccetera eccetera e ha una durata di 6 mesi ha delle confezioni veramente veramente carine io ho provato anche la fito maschera all'avocado per i capelli ed era molto molto buona che ecco con questo fito struccante diciamo adesso devo capire se sono io che me ne butto addosso troppo Giorgia a te ti brucia gli occhi? no è solo io allora che mi butto lo struccante negli occhi perché Giorgia non brucia gli occhi a me brucia gli occhi un pochettino mi brucia quindi non saprei anche se qui dice che è una formulazione delicata elimina il modo dolce e delicato il trucco dagli occhi senza lasciare residui effettivamente strucca molto molto bene si questo non si può dire niente perché poi io per esempio ieri per fare una prova mi sono struccata e poi ho ripassato il coton fioc imbevuto con lo struccante sulle ciglia e non c'era praticamente quasi più mascara quindi effettivamente è strucca veramente veramente tanto però forse ne approfondirò l'uso più in là perché adesso non mi sento di dare un giudizio uno è veramente veramente vecchio cioè tipo ho preso quest'estate infatti è finito però l'avevo lasciato lì e adesso me lo terrò perché è una confezione troppo carina ed è questo qui ed è il correttore no niente correttore è lo stick con tornocchi della Tony Moly che adesso la Tony Moly si trova da Sephora almeno io ho visto che da Sephora tutti mascheri di Tony Moly correttori creme eccetera eccetera e questo era carinissimo però la confezione a panda è il panda so cool eye stick panda's dream si toglie e dentro è blu adesso praticamente è rimasto questo cioè ho finito tutto però devo dare purtroppo un giudizio non molto positivo perché perché questo idratante per il contorno occhi chiamiamolo idratante idrata poco nel senso che rinfresca tanto infatti c'è scritto so cool quindi come se è già scritto che guarda non è un idratante ma più un rinfrescante della zona della zona contorno occhi e quindi d'estate va bene perché effettivamente d'estate sa comunque con il sudore le cose eccetera non metti chissà quali creme corpose eccetera quindi va bene che rinfresca il contorno occhi però d'inverno ovviamente no infatti io quando mi è arrivata la beauty box con un altro campioncino di contorno occhi ho cambiato praticamente subito perché era più adatto al periodo questo qui adesso che sto usando è della skin and co ed è un campioncino di 12 no di 12 niente di 5 millilitri è la crema contorno occhi al tartufante truffle therapy e questa qui invece è molto molto idratante ed anche molto molto leggera quindi è cioè non sono quelle creme che proprio sembra che si stai spalmando il burro addosso quindi questa diciamo che per la questo costa più o meno sui 10 euro questo non ho la più pallida idea perché è un campioncino e questo diciamo che per la stagione estiva è molto rinfrescante e ti dà un senso di sollievo però d'inverno no d'inverno no perché cioè si vedeva che vedevo io che quella zona lì era completamente secca e quando ci mettevo il correttore era ancora c'è nel senso si vedevano le crepe di non so cosa è uno che promosso assolutissimamente che ancora non è finito e non capisco neanche come faccio a vederlo devo praticamente smontarlo comunque è l'unico burro cacao serio nella storia dei burro cacai che può veramente riparare le vostre labbra secche ed è questo qui della Carmex e questo qui l'ho preso su Asos e ce ne sono un po' di tutti i tipi c'è anche quello lì non a stick ma che puoi prelevare con il dito oppure ce ne sono di altre profumazioni comunque si trovano e questo mi ricordo che lo vedi mi sembra o su un video di Clio o comunque da qualche parte dove cercavo qualcosa che mi rinforzasse un po' le labbra perché erano veramente veramente screpolate questo qui tra l'altro ha l'SPF quindi sa di vaniglia è giallognolo qui si gira e torna anche indietro non è uno di quei burro cacai che si girano e poi rimangono lì no questo può anche tornare giù non costa tantissimo sembra di averlo pagato sui 5 euro però dura veramente tantissimo anche perché vediamo qui perché non c'è scritta la durata ah beh si c'è scritto 2017 però non si sa quando eh vabbè 2017 sia siamo ancora nel 2016 quindi e e ha fa anche un certo effetto rimpolpante diciamo che quando lo metti dopo qualche secondo inizia a pizzicare un po' lo fa è un effetto che fa per pochi secondi cioè per un po' pizzica e poi dopo non lo fa più però vi giuro che le labbra sono veramente 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 idratate con questo cosino qui allora in pratica è la crema equilibria la linea nutriente carité crema viso nutriente intensiva molto intensiva e protettiva ed è una nuova formula questa crema qui a parte che non c'è scritta sono 75 ml una durata di 6 mesi assolutamente non l'ho comprata 6 mesi fa però è finita perché la usiamo sia io che Giorgia infatti c'è rimasta veramente molto poca e che alla fine è diventata molto molto dura è molto idratante effettivamente forse però una crema che va meglio la sera perché alla fine la sera te la metti ti senti un po' appesantito nel senso è come se ti senti il burro in faccia però almeno vai a dormire ti svegli la mattina è completamente asciutta invece di giorno se io mi lavo la faccia poi mi metto la crema devo stare lì a massaggiare 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 perché se no questa crema qui non si assorbe subiti mi piace di più per diciamo la notte quindi per andare a dormire che piuttosto che per mettermela ma la mattina infatti devo cambiare crema anzi se avete qualcosa a consigliare scrivetelo pure qui quindi niente io spero che questo video vi sia utile vi sia piaciuto e vi mando un bacione e al prossimo video ciao con il rosetto nero che dicono che è viola era viola secondo me è nero grazie a tutti